Questa volta Alberto Rania l'ha combinata proprio grossa, anzi pesante, ben 21 chili e 600 grammi. A tanto si è fermata la bilancia quando, due giorni fa, ha pesato il gigantesco luccio di 145 centimetri pescato nottetempo nelle acque del Golfo Rivano. Un pesce smisurato che farebbe la gioia di qualsiasi pescatore, professionista o appassionato. Rania è l'unico pescatore professionista trentino. Rivano di 55 anni è segretario dell'associazione Amici della Tirlindana che da anni rilancia la tradizionale pesca nel Garda. Quasi ogni giorno esce nel cuore della notte con la sua barca e poi vende il pescato in piazza al Broglio. E non sono pochi i Rivani che ogni martedì, venerdì e sabato mattina vanno da lui a scegliere i pesci tra i cubetti di ghiaccio della sua Apecar, sotto i grandi platani accanto alla rocca. Tutto molto semplice, immediato e artigianale, ma senza dimenticare la contemporaneità. Ha creato un sito internet che è una vera enciclopedia del pesce di lago. Tecniche di pesca, specie di pesci, ricette, storia della pesca gardesana e caratteristiche geografiche e ittologiche del Garda. Il lucio da record è stato venduto allo chef stellato del Lido Palace che ci ha fatto un menù dedicato. Una bella fine per il pesciolone sui tavoli dell'unico 5 stelle lusso del Trentino.